Continua l'impegno della Camera di Commercio di Lecce al fianco del tessuto imprenditoriale locale. Il Consiglio dell'ente camerale ha deciso infatti di aumentare di 300 mila euro il bando per le imprese salentine, che da 500 mila euro diventa così di 800 mila. La decisione è stata presa poiché la Camera di Commercio ha ricevuto richieste per oltre un milione di euro. L'aumento dei fondi è stata una scelta necessaria per cercare di esaudire le 650 domande ricevute e dare nuova linfa alle aziende del territorio. Oggi la Giunta e il Consiglio della Camera hanno deciso, visto il grande successo che ha avuto il bando per l'abbattimento dei costi energetici, di elevare da 500 mila euro, così come era stato proposto nel bando, a 800 mila euro. Quindi è una cosa importante, abbiamo impegnato altri 300 mila euro del bilancio della Camera, ma ci sembrava una cosa giusta dover intervenire. Siamo a 650 richieste, quindi è una cosa importante. L'altra decisione di oggi è che si è chiuso il bando multimisura che prevedeva altri 960 mila euro a disposizione delle aziende su quattro bandi, che uno era l'internazionalizzazione, l'altro il turismo e l'industria culturale, l'altro è la transizione digitale e green e l'ultimo sull'aiuto per la formazione lavoro, ma anche per le assunzioni. 960 mila euro messi a disposizione delle imprese, il bando è stato chiuso il 20 di gennaio, con grande soddisfazione, quindi le aziende hanno avuto dei voucher pari al 50% delle spese fatte, quindi credo che la Camera oggi sia stata presente al fianco delle imprese. Una abboccata così di ossigeno per le aziende, costrette a fare i conti con la crisi causata dalla situazione post-pandemica e dalle vicende internazionali.